Grazie di essere qui questa sera a questo incontro dedicato alle parole della politica, grazie all'ospite invitato dalla Scuola di Etica e Politica della Gabella, l'On. Gianni Cuperlo, che ha accettato gentilmente di farci da guida in questo viaggio nella comunicazione politica. Quindi un tema che è all'ordine del giorno, che investe il nostro vivere quotidiano, non solamente a livello di campagna elettorale o di partiti, ma proprio per quanto riguarda ogni tassello della vita sociale. Leggiamo tutti la stampa, guardiamo le televisioni, ci informiamo con tutta quella che è la comunicazione multimediale. Quindi la politica fa parte del nostro vivere quotidiano. E quindi Gianni Cuperlo è un politico, direi che questa risposta la lasciamo dopo e ce lo facciamo dire in un qualche modo da lui. Sicuramente da un po' si occupa di politica, ma si occupa anche di comunicazione. Laurea al Dams in Teoria delle Comunicazioni di Massa, in un periodo in cui questa laurea non era ancora scontata, come adesso dove la Scienza della Comunicazione, guardiamo, le dico, noi a Reggio Emilia abbiamo tantissimi laureati in Scienze della Comunicazione e ormai la Teoria della Comunicazione di Massa la sentiamo tutti i giorni. Una presenza importante a capo della FIGC nazionale in un momento molto delicato, siamo nel 1989 all'anno della svolta della Bolognina, in un momento in cui il Partito Comunista decide un passo che lo porta in avanti anche con l'accelerazione forte interna, con una rivoluzione, con perdite, ma anche con l'obiettivo di andare avanti. E da lì appunto la storia di Gianni Cuperlo si intreccia con quella del PDS, nella dirigenza nazionale, con quella poi che è la storia dei DS. è coordinatore della Comunicazione nazionale dei democratici di sinistra dal 2001 al 2006, è accanto a Massimo D'Alema nell'esperienza della bicamerale delle riforme, è parlamentare dal 2006, però nel frattempo continua, appunto perché questo è quello che la comunicazione e la politica è un percorso che nella sua vita si intreccia, continua con una serie di esperienze anche professionali nella comunicazione, è professore associato all'Università di Teramo, scrive a Quattro Manico e Massimo D'Alema due libri, ne pubblica uno suo, edito da Donzelli nel 2004 sulla Parcondicio. Quindi una storia sicuramente lunga, sicuramente articolata, lui di sé dice che Joe Lansdale è un genio ed è il più grande scrittore contemporaneo, noi di nostre aggiungiamo che Gianni Cuperlo è forse uno dei pochi uomini che si occupa di politica, che ha un blog e che lo aggiorna da sé e con sue parole tutti i giorni, e questo gli fa sicuramente onore, potremmo aggiungere tante altre cose, alcune le leggiamo, se mi permettete un attimo, dal Foglio, che sicuramente è un quotidiano abbastanza lontano da le posizioni politiche di Gianni Cuperlo. Si dice di Cuperlo, quelli che hanno simpatia per lui dicono che non sembra neanche un politico, che legge libri, nel senso libri di letteratura, coi personaggi, la trama e tutte quelle robe lì, che va al cinema, cucina, viaggia. Per i suoi estimatori Gianni Cuperlo è insomma un uomo che si occupa di mille cose, pieno di curiosità, interessi e passioni. Quelli che non hanno simpatia per lui sostengono che tra tante passioni non rientri la politica. E questa è sia la ragione per cui non sembra neanche un politico, e che non lo è. I primi dicono che sia impossibile immaginarlo impegnato in una rissa televisiva, nella lotta al coltello con gli avversari o con i suoi rivali interni, in una polemica di qualsiasi genere. Lo stesso dicono i secondi. Quindi ecco, chiederemo poi a lui anche commento di questa lettura che ci è sembrata piuttosto simpatica. Io volevo lasciare la parola appunto a Gianni Cuperlo. Prima però volevo dare una suggestione. Italo Calvino, diciamo in una pubblicazione possuma che va sotto il nome di lezioni americane, ha dato una sorta di canone della scrittura, fermando appunto alcuni elementi, quali appunto la leggerezza, la rapidità, l'esattezza, la visibilità e la molteplicità, come le caratteristiche fondamentali dello scrivere, sia in letteratura ma anche nel giornalismo, perché comunque Calvino era anche giornalista, sia anche insomma in quello che è tutto sommato, lui dice essere in linguaggio orale. E in particolare in una di queste lezioni, nell'esattezza, lui proprio dice che si sente inorridito da chi usa troppe parole con aggressività, troppe parole vuote che di fatto non vogliono dire assolutamente niente. Crede che nel momento in cui in ogni significante c'è un significato, le parole appunto abbiano un'esattezza e che quando si usano abbiano un loro peso, insomma. E quindi anche l'essere sintetici a volte e usare le parole giuste, proprio con un'accezione quasi algebrica, significa stemperare ancora meglio i concetti. La domanda, che non è neanche una domanda, è una suggestione, è questa. Esattezza e mi allaccio all'idea di dignità. Non è forse giunto il momento, anche in politica, di ridare dignità a certe parole che erano state messe un po' da parte, anche dal centro-sinistra, come operai, come uguaglianza, come diritti, come pari opportunità. E in questo modo ridare dignità non solo ai significanti, ma anche ai significati che sono dentro queste parole e alle persone che in un qualche modo si riconoscono in queste parole e sono di fatto la natura di quello che vogliono significare. E quindi bisogna un attimino, insomma, riprendere anche da questo. Prego. Mamma mia! Grazie! Grazie! Non ho mai avuto io una presentazione così. Quindi già il viaggio meritava per questa... Grazie a voi di essere qui questa sera. Hai detto delle cose bellissime con... Non me lo ricordavo questa cosa del foglio, però effettivamente era uscita. E naturalmente hanno ragione i secondi, quelli che non hanno simpatia per me, insomma, la loro è la valutazione più obiettiva. E grazie anche per la suggestione, perché è molto bella. Poi quel libro che tu hai ricordato di Calvino è particolarmente bello, anche riletto ad anni di distanza. La leggerezza in particolare, che è la lezione che apre questo ciclo di incontri. Sì, io penso che tu abbia ragione, cioè che le parole debbano riscoprire il loro peso e che le persone debbano tornare ad utilizzare le parole con un'attenzione quasi rigorosa al significato che le parole hanno. E credo, ma questa è un'ovvietà, che in particolare per la politica e per gli esponenti politici l'uso del linguaggio, l'uso delle parole debba avere qualcosa di rigoroso. In questo senso c'è la sensazione a volte di una politica che consuma il linguaggio, che consuma le parole senza rendersi conto poi della responsabilità che deriva invece, in particolare per un leader politico, per uno schieramento politico. Noi da questo punto di vista, adesso non è che voglio buttarla in politica troppo facilmente, ma ecco viviamo in un paese dove alcuni aspetti da questo punto di vista sono particolarmente poco edificanti. Noi abbiamo un presidente del Consiglio che tende a usare le parole in termini piuttosto leggeri, ma non nel senso della leggerezza di Calvino, nel senso che è quasi una caratteristica costante di Berlusconi quella di fare delle affermazioni anche particolarmente impegnative o che colpiscono l'opinione pubblica e non è che le fa in una sede privata, riservata, in una riunione o nel Consiglio, le fa in televisione, salvo che il giorno dopo se l'opportunità ha cambiato di segno, se il vento ha mutato, nega anche di aver detto quello che milioni di persone hanno ascoltato il giorno precedente. Ma non è solo questo. Penso ad una politica che nel corso degli anni, soprattutto guardando ad un'esperienza come quella nostra, ha perduto anche il pudore, in alcuni casi, dell'uso delle parole. C'è un filmato su YouTube, a me me l'hanno segnalato sul blog e sono andato a vederlo, ed è un filmato abbastanza impressionante, perché è una manifestazione della Lega Nord, credo a Venezia, di qualche mese fa, e ad un certo punto al podio prende la parola un parlamentare europeo di quel partito, di quel movimento politico, l'onorevole Borghezio, che si lancia in una intemerata, in uno jacuzzi nei confronti degli immigrati, delle etnie che invadono il nostro paese, che lo inquinano, che lo deturpano. E, diciamo, le espressioni letterali sono irripetibili, impronunciabili, ma, insomma, cito la fonte, potete andare domattina o questa sera tardi sulla rete, ve lo scaricate e lo guardate. Perché mi ha colpito? A me, come a chiunque altro, insomma, se lo proiettassimo adesso saremmo tutti impressionati, perché su quello stesso palco, in quella stessa cornice, in quella stessa manifestazione, dopo pochi minuti che scende l'onorevole Borghezio, prendono la parola alcuni ministri della Repubblica Italiana, ministri in carica, esponenti di quel movimento politico, che legittimamente ha vinto le elezioni, intendiamoci, non ne faccio una questione, che, dallo stesso palco, dallo stesso microfono, davanti alla stessa platea, usano un linguaggio, per fortuna, diverso. Sono pur sempre ministri della Repubblica, hanno giurato sulla Costituzione e quindi hanno un atteggiamento e anche un linguaggio diverso. Però fa impressione che ci possa essere, nell'anno di Grazia 2009, anzi 2008, quando è avvenuto questo episodio, ma che potrebbe avvenire di nuovo sabato prossimo, che ci possa essere questa commistione di linguaggi così diversi, così antitetici. Quello di Borghezio, che effettivamente fa venire i brevidi alla pelle, e poi il fatto che due ministri della Repubblica prendano la parola pochi minuti dopo, senza che nessuno si sente in dovere, parlo della grande stampa, della televisione, di segnalare l'anomalia di denunciare anche la caduta di un principio, come dire, etico, ma allo stesso tempo anche di un pudore del dire, che in alcuni casi la politica ha smarrito. E invece io penso, in questo forse sono un po' antico, anche se ho una grande passione per le cose della comunicazione, che tutto sommato l'arte del dire, le forme del dire e i contenuti del dire e del linguaggio siano qualcosa di essenziale nella dimensione della politica, se vogliamo ragionare della sua credibilità, della sua capacità di essere in qualche maniera lo strumento nel quale si identificano milioni e milioni di persone. E qui, insomma, devo dire, viene in soccorso davvero la parabola umana, culturale e politica del nuovo presidente degli Stati Uniti. A me è capitato di parlarne, come a tanti, nel corso di questi mesi. Perché il fatto che l'America abbia scelto di mandare alla Casa Bianca un uomo relativamente giovane, a 47-48 anni, Obama, non è il più giovane presidente degli Stati Uniti, intendiamoci, è sicuramente un uomo giovane, soprattutto se lo, come dire, commisuriamo i parametri italiani. Però non è il più giovane presidente di quel paese. Il più giovane presidente americano fu John Kennedy, che nel 1960, quando venne eletto alla Casa Bianca, aveva 43 anni, era più giovane di Obama. Poi, come sapete, rimase presidente per soli tre anni e venne ucciso a Dallas. Ma non è soltanto l'età la caratteristica che, secondo me, colpisce di questa parabola umana di Obama. E non è nemmeno solo il fatto che lui è, per definizione, un outsider. Effettivamente lo è. Oddio, non è che ha iniziato il suo rapporto con la politica l'anno scorso. Era comunque un senatore dell'Illinois, stava a Washington, aveva un ruolo nel Partito Democratico. Ma non c'è dubbio, anche qui, se lo misuriamo con i parametri italiani, che è da considerare un outsider. C'è quell'episodio molto divertente, molto significativo, che credo sia riportato anche nella sua biografia, del giovane Obama che otto anni fa, era quindi il 2000, quindi nove anni fa oramai, va, parte da Chicago, perché vuole partecipare ai lavori della Convenzione Democratica che avrebbe nominato Al Gore, sfidante, dopo gli otto anni della presidenza Clinton, contro George Bush Jr. Obama parte da Chicago e non è delegata alla Convenzione Democratica, ma ha già una forte passione politica e quindi parte, alla volta della Convenzione, convinto che avrebbe ottenuto un accesso, un credito, insomma, un badge per partecipare, per assistere ai lavori. È come se uno di noi andasse, uno di voi andasse al prossimo congresso del PD facendo le debite e proporzioni perché vuole assistere ai lavori del congresso. E arriva lì alla Convenzione Democratica, parliamo di otto anni fa, e non riesce a farsi accreditare, non riesce ad avere un badge per entrare e quindi ripiglia la sua valigia e torna a casa a Chicago. L'episodio lo racconta lui stesso in questa sua biografia, ne hanno parlato i giornali, ed è significativo perché, questa è l'America, questa è anche la potenza della politica americana, questo giovane che otto anni fa, questo giovane uomo afroamericano che otto anni fa manco riesce ad entrare nel palasport, lì nel catino che ospitava la Convenzione Democratica, otto anni più tardi, otto anni, che non sono un trentennio, sono un arco di tempo relativamente breve, diventa il Presidente degli Stati Uniti, cioè l'uomo politico più potente del mondo. Ma, e questo ovviamente è un episodio, un aneddoto che conferma il fatto che si tratta di un outsider, però insisto, non è neanche il fatto che sia un outsider, o che sia il primo afroamericano che arriva alla Casa Bianca, o che abbia soltanto 47 anni, tutti elementi veri che hanno pesato, ma non è soltanto questo che dà il senso, la misura della novità, che è intervenuta nella politica mondiale e soprattutto nella politica americana. E il fatto, per tornare alla tua domanda, alla tua suggestione iniziale, che questo giovane uomo di colore ha avuto dalla sua la capacità e il coraggio di non aver timore di usare alcune parole che erano tutto sommato state poste ai margini del dibattito politico negli Stati Uniti e anche fuori dagli Stati Uniti. Obama vince le elezioni presidenziali l'anno scorso con una campagna elettorale molto impegnativa, molto faticosa, con delle primarie vere contro Hillary Clinton ed era un avversario di tutto rispetto Hillary Clinton, metteva in campo la potenza finanziaria, la potenza politica della famiglia Clinton. E Obama vince quella sfida parlando di redistribuzione delle risorse e del reddito nella società americana, parlando di pari opportunità e indicando nelle pari opportunità la nuova frontiera dell'uguaglianza nel tempo moderno, affrontando il tema dei diritti civili e non solo in relazione al razzismo, e qui la sua biografia ovviamente era una biografia che parlava per il personaggio, ma dei diritti civili intesi anche come affermazione dei diritti di cittadinanza, delle opportunità per i singoli, delle libertà, del rispetto della persona, dell'autodeterminazione della persona. C'è nella campagna elettorale di Obama e nella sua vittoria il senso di una sfida che i democratici tramite lui dopo anni di timidezza da questo punto di vista fanno, muovono i repubblicani, alla destra repubblicana. E la sfida è sul terreno anche dei valori, del modo di concepire i diritti, i doveri, le responsabilità individuali da un punto di vista dei valori coesivi di una società come quella americana e noi potremmo dire come società democratiche in termini più ampi, più generali. In questo senso le parole hanno una grandissima capacità e forza evocativa. Come sapete, lo sapete meglio di me quanto me, Obama è molto apprezzato, ha fatto un punto di forza nella sua campagna elettorale per la sua capacità comunicativa, un grandissimo oratore. Adesso leggevo l'altro giorno su Repubblica un bel articolo che diceva che anche quando incontra le scolaresche legge il gobo elettronico, perché evidentemente la responsabilità è tale che non può farsi scappare una battuta, bisognerebbe mandare qualcuno di nostra conoscenza a ripetizione da questo punto di vista sul piano del metodo. Ma la campagna elettorale è stata una grandissima manifestazione da parte sua di capacità retorica, di abilità comunicativa. Però, insisto, non è solo la formula retorica, è anche il contenuto di quello che dice. Allora, tra tutti i tanti discorsi bellissimi che Obama ha tenuto nel corso degli ultimi due anni, c'è un assaggino a Donzelli, un libricino di Donzelli, quelli piccolini, che pubblica una raccolta di questi discorsi e mi permetto di consigliarvela perché sono veramente molto belli, molto ricchi di stimoli, di suggestioni. Però, tra tutti i discorsi, tanti discorsi che abbiamo sentito, uno che mi è rimasto particolarmente impresso, forse, dico sinceramente, è un'opinione personale, più persino del discorso del 21 gennaio, del 20 gennaio, quello della proclamazione, è il discorso della Notte della Vittoria, quando lui si presenta a tarda ora davanti a questa folla straordinaria di Chicago e tiene questo suo discorso di ringraziamento, insomma, è diventato da pochi minuti, è stato, ha vinto le presidenziali, è il futuro presidente degli Stati Uniti e c'è un'attesa spasmodica, le televisioni di tutto il mondo sono collegate e da tutto il mondo, fusi orari permettendo, si segue l'ospice del nuovo presidente e lui fa un discorso bellissimo, bellissimo, anche lì carico di emozione, di suggestione, cita il padre che, quando è arrivato negli Stati Uniti, non avrebbe potuto sedersi ad un ristorante ad essere servito, mentre la grandezza di quel paese dice proprio il fatto che oggi lui è il presidente degli Stati Uniti. Insomma, in questo discorso, pieno di emozione, di pathos, di entusiasmo, di questa folla che lo osserva, che lo divora con lo sguardo, ci sono quelle fotografie, quei filmati bellissimi di donne anziane, nere, ma non solo, piangono per la commozione, ad un certo punto, ha parlato 18 minuti quella notte Obama, non è che ha fatto un discorso lunghissimo, ad un certo punto lui trova il tempo, lo dico così, per fare un passaggio riferito ai diritti della comunità gay, degli omosessuali, i diritti civili degli omosessuali. E allora, io l'ho ascoltato, naturalmente era un passaggio giusto, sacrosanto, che io personalmente condivido, che credo faccia parte di una concezione moderna del governare, della democrazia, del rispetto dell'orientamento sessuale come un tratto costitutivo dell'identità delle persone, quindi non mi colpiva il fatto che Obama dicesse che bisogna garantire i diritti dei gay, mi colpiva che lo dicesse in quel discorso, 18 minuti soltanto in cui doveva parlare al mondo, e trovava il modo di inserire una battuta, una frase, sui diritti degli omosessuali. E allora pensavo, pensavo tra me e me, poi nei giorni successivi, ma così non l'ho mai detto pubblicamente, insomma un pensiero che socializzo con voi questa sera, la differenza che poteva esserci con un politico europeo, diciamo italiano, anche del centro-sinistra, che magari quella frase l'avrebbe detta, e l'ha detta tante volte, però l'ha detta in quale contesto? Per esempio l'ha detta in un programma televisivo dedicato ad approfondire la questione della proposta di legge sui dico, oppure l'avrebbe detta davanti ad una platea, che ne so, del congresso dell'Archigay, se avessero invitato un esponente del centro-sinistra. E invece il presidente degli Stati Uniti cosa fa? Parla all'America, parla al mondo, gli occhi del mondo sono puntati su di lui in quell'istante, e in quel momento, in quel contesto, lui parla anche dei diritti dei gay. Allora mi sono chiesto banalmente, ma perché lo fa? Perché lo fa? E la risposta che, almeno mi sono dato io, non so se la condividete, ma una risposta possibile è questa. Perché in quel momento, dicendo quella frase, Obama non sta parlando alla comunità degli omosessuali. Sta parlando all'America e al mondo, e attraverso il riferimento ai diritti della comunità omosessuale, sta trasmettendo quella che è la sua concezione della libertà, della democrazia, di una società che garantisce il pluralismo effettivo, dal punto di vista anche dell'orientamento sessuale, come un tratto di forza, non di debolezza, non come un elemento di tolleranza, non come una concessione, ma come una rivendicazione forte, orgogliosa, di qual è la sua idea del futuro e dell'avvenire di quel paese. E in questo c'è qualcosa di, allo stesso tempo, politico e profetico. E d'altra parte, mi fermo su questo, poi abbiamo deciso che facevamo un po' uno scambio, ma così riesco a dire perché il riferimento l'ho trovato così pieno di significato. E d'altra parte, la politica, la migliore politica, e anche il migliore linguaggio politico, a proposito dell'uso delle parole, è sempre quello che è in grado di anticipare, in qualche modo, un tempo di là da venire, una dimensione che ancora non c'è. Io, come tu hai gentilmente ricordato, mi sono occupato nel corso degli anni della comunicazione politica. E occupandomi di questa materia, che è una materia complessa, piena di tante cose diverse, ad un certo punto mi sono chiesto quale poteva essere il discorso politico più bello che fosse mai stato scritto e pronunciato da un leader, da un leader politico. Ci sono anche dei volumi pubblicati in Italia che riassumono, sintetizzano, anzi no, pubblicano dei discorsi politici di epoche diverse. Sono volumi interessanti, uno legge e capisce un po' l'evoluzione degli stili, del linguaggio, del vocabolario. Però mi ero chiesto, ma qual è, dal mio punto di vista, poi un giudizio molto soggettivo, qual è il discorso più bello che sia mai stato scritto e pronunciato? E alla fine, devo dirvi, che ancora una volta dobbiamo stare di là dall'Atlantico, a mio modo di vedere, il discorso più bello, più carico di intensità e anche più moderno, se lo leggi oggi, che sia mai stato scritto e pronunciato, è quello di un presidente americano, in quel caso era ancora il candidato alla presidenza, John Kennedy, che ho citato prima. E quindi l'anno, il 1960, il 15 luglio 1960, la città è Los Angeles, è la convenzione democratica che avrebbe, nelle ore successive, proclamato, nominato, candidato democratico alle presidenziali di novembre, John Kennedy. E Kennedy tiene il suo discorso, come quello di quest'estate di Obama, in quella grande stadio, ed è un discorso straordinario, che va sotto il titolo, sotto il nome della nuova frontiera, il discorso della nuova frontiera. E la formula retorica che utilizza Kennedy è piuttosto semplice, è piuttosto banale, nel senso che siamo a Los Angeles, quindi California, all'Occidente, e Kennedy dice, così come i nostri antenati, i nostri avi, i padri missionari, i pellegrini, vennero qui con le carrozze, con i cavalli, in cerca del loro, delle praterie, dove insediarsi, dove allevare le mandrie, dove far crescere i figli, in cerca di benessere, in cerca della loro nuova frontiera, al tempo del vecchio West, che noi abbiamo conosciuto tramite immagini cinematografici hollywoodiane, allo stesso modo, dice Kennedy, noi oggi, noi democratici americani, oggi torniamo qui all'Ovest, a Los Angeles, in California, e costruiamo la nostra nuova frontiera. E la nostra nuova frontiera è la frontiera dell'anno 1960. Ed è una frontiera decisiva, perché da qui parte una nuova storia. Una storia dove i diritti umani, i diritti civili, saranno garantiti a favore di tutti. È una storia dove la ricerca scientifica e tecnologica, la medicina, viene posta al servizio del benessere dell'intera umanità. È una epoca storica nella quale l'America lavorerà attraverso il dialogo per il disarmo progressivo degli eserciti e dei popoli, perché pensiamo ad un mondo di pace, di fratellanza e di condivisione. È la frontiera del benessere, della solidarietà, dei diritti umani e civili per tutti. Insomma, è un discorso straordinario. Se lo scaricate da Google, si può anche trovare tradotto, ancora oggi è un discorso che è scritto con una freschezza, con una ricchezza di linguaggio, ma che potrebbe essere recitato domani, non 50 anni fa, quando è stato pensato e scritto. Allora uno legge questo bellissimo discorso e si chiede, ma perché era il 1960, non ero nato neppure io, ma perché un discorso così è ancora talmente bello, pieno di forza, di forza politica, di forza culturale? E anche qui una risposta è possibile, come quella di Obama che cita i diritti dei gay. Io ho provato a darmela a queste risposte. La risposta è questa, che la grandezza di quel discorso è soprattutto nel fatto che in quel momento Kennedy non sta descrivendo l'America che c'è, l'America che tutti quelli che sono lì davanti, che lo stanno ascoltando, conoscono. Lui sta descrivendo un'America che ancora non esiste. Dentro quel discorso, se uno lo legge con il senno di poi, con l'equilibrio e la conoscenza dei fatti che abbiamo oggi, dentro quel discorso ci sono i germi, i segni di quello che verrà dopo. Dentro quel discorso c'è Berkeley, c'è la rivolta studentesca, c'è il movimento per i diritti civili, c'è Malcolm X, c'è Martin Luther King, ci sono le marce dei neri d'America per affermare la loro autonomia e la loro libertà dentro quella società. C'è persino la rivolta generazionale contro il Vietnam, avventura drammatica rispetto alla quale, come sapete, i democratici americani avranno, con Lyndon Johnson, delle responsabilità non irrilevanti. Ma c'è in qualche modo l'anticipazione, lo slancio, che immagina un tempo a venire, che ancora non c'è. E allora qui è l'altro elemento che definisce a mio modesto parere la differenza tra una politica fatta solo della retorica, delle formule, o una politica che è capace di interpretare il suo ruolo nella maniera più virtuosa, che è la capacità di anticipare il tempo che deve venire e non soltanto di fotografare il tempo che hai davanti a te. Il che, attenzione, non vorrei apparirvi come, diciamo, il teorico, se la parola mi viene concessa, è passata di una politica astratta che guarda oltre la realtà e che non si misura con la concretezza dei problemi. Magari nel corso della serata ne parleremo, siamo nel cuore di una crisi drammatica, devastante, finanziaria, economica, sociale, quindi lontano da me l'idea che la politica non debba partire dalla materialità, della condizione di vita delle persone, soprattutto perché poi, lo dico da uomo di sinistra, diciamo, oltre che da esponente di un partito che oggi si chiama Democratico, ma ritengo di essere un uomo di sinistra e credo che questa sia una premessa fondamentale per una politica degna di questo nome. Però non c'è dubbio che la grandezza della politica è anche nella capacità di anticipare qualcosa che deve venire e di farlo sul terreno dei valori, delle idealità, dell'identità, dei principi e anche, ed anche, mi fermo qui, come giustamente hai detto tu in quella suggestione iniziale, sul terreno del linguaggio. Perché se noi perdiamo il legame stretto, intimo che c'è tra l'arte del dire e il significato che quelle parole che quel dire ha per milioni di persone, se la politica smarrisce questo equilibrio, questo legame, questa relazione, allora tutto diventa lecito. Allora è possibile che un partito di governo, come è accaduto nel nostro paese, sono partito da qui, da qui finisco, possa organizzare una manifestazione e nessuno protesta se davanti a migliaia di persone, un parlamentare europeo si permette di usare espressioni, un linguaggio che fa riferimento a logiche da pogrom nei confronti di chi appartiene ad una nazionalità, ad un'etnia diversa e dopo pochi minuti un ministro della Repubblica parla da quello stesso microfono senza neppure sentire il dovere morale di prendere le distanze da quello che è stato appena detto. Ecco, il peso delle parole, il valore delle parole è legato direttamente alla capacità della politica di esprimere identità forti, riconoscibili, ma coerenti con una dimensione dei principi e dei valori a cui ci si ispira che credo non debba mai venire meno perché se viene meno allora davvero poi è molto difficile pensare che tutto si possa recuperare semplicemente con una buona campagna elettorale. Questo non basta. Grazie. Grazie. Ovviamente se ci sono domande dal pubblico queste sono assolutamente ben accette, anzi. A me dispiace perché questa suggestione che era partita su Obama e che poi è rimbalzata su John Fitzgerald Kennedy ci aveva portato in una dimensione alta e io sono costretta a prendere l'aereo a attraversare l'oceano e tornare in Italia e all'Italia di oggi. Quindi, dopo le parole i concetti. I concetti perché siamo di fronte ad una rivoluzione in questo paese culturale che ha fatto qualcosa di veramente forte cioè diciamo che negli ultimi 15 anni sono stati completamente ribaltati i valori del dopoguerra repubblicano in tutti gli ambiti sociali e questo ha fatto sì che comunque la società proprio abbia preso una direzione non di facile lettura sempre complessa non sto dicendo giusta o sbagliata però ho come l'impressione e lo chiedo a lei appunto come esponente della va bene è lo stesso lo chiedo a te come cioè comunque come componente della maggiore espressione di centrosinistra come insomma il partito in questo momento che rappresenta la fetta maggiore di elettori del centrosinistra io ho come l'impressione che questa rivoluzione il centrosinistra non è in grado né di cavalcarla né di contrastarla cioè proprio non siamo non siamo il centrosinistra non è in grado di dare vita ad un sistema ad uno schema di lavori che in qualche maniera sia speculare e che possa rappresentare una via più accettata o meno accettata ma che comunque in un qualche modo è alternativa quindi mi chiedo su quale basi teoriche su quale linee programmatiche e politiche si può calzare comunque una così un'identità che in un qualche modo dà più compiutezza effettivamente al centrosinistra e fa sì che questo che questo sistema di valori che tutto sommato non è di quell'espressione politica possa in un qualche modo essere contrastato con una forza che però auga il peso beh ma questo è questo è il congresso del PD praticamente più che una domanda è come si fa come si affronta questa discussione nel congresso del partito democratico ma io dico subito che non sono all'altezza di dare una risposta compiuta ci vorranno dei mesi e discuteremo insieme dico qualcosa su come la percepisco io la questione e lo dico per flash così forse risulto più sintetico e anche più chiaro intanto partiamo da qui noi abbiamo perso le elezioni un anno fa e le abbiamo perse male nel senso che la forbice alla fine tra il centrodestra e il centrosinistra è stata di se non ricordo male 8-9 punti percentuali noi sapevamo che la rincorsa era difficilissima non sto qui a ricordare cose che conoscete quanto me i due anni sofferti della legislatura a Prodi le divisioni interne a quella maggioranza la litigiosità di quella maggioranza la crisi improvvisa nel mese di gennaio lo scioglimento della legislatura più breve della storia repubblicana nuove elezioni era molto difficile riuscire a strappare un risultato positivo però resta il fatto che abbiamo perso e oggi il centrodestra governa saldamente questo paese se io questa sera vi dicessi che in ragione della crisi economica delle difficoltà che magari cominceranno ad avere anche loro perché alla fine poi non puoi governare per tanto tempo a colpi di spot le persone poi guardano il portafoglio vedono che è vuoto e cominciano anche probabilmente a lamentarsi ma se io vi dicessi che in ragione di tutto questo tra sei mesi cesserà la possibilità di una spallata e di nuove elezioni con una rivincita anticipata sui tempi naturali vi direi una sciocchezza perché non accadrà hanno vinto le elezioni e hanno una solida maggioranza sia alla Camera che al Senato noi che siamo lì li vediamo l'emiciclo poi quando si illuminano le lucette del voto il voto verde arriva fino a due terzi e noi siamo una minoranza però c'è un'altra osservazione che secondo me va fatta in relazione alla sconfitta di un anno fa e l'osservazione è questa lo dico in modo un po' brusco ma insomma mi perdonerete comunque serve a capirci sul merito sul concetto noi abbiamo perso le elezioni di un anno fa per 8-9 punti di scarto ma il centro-sinistra di cui oggi il Partito Democratico è l'architrave anche se non l'unico soggetto ed esclusivo ma il centro-sinistra è minoranza nei rapporti di forza con il centro-destra nei rapporti di forza elettorale in questo paese da 15 anni non da un anno o da due anni o da tre anni da 15 anni dal 1994 da quando si è votato per la prima volta con il sistema maggioritario Berlusconi è sceso in campo e vinse quelle elezioni era il 27 marzo del 94 in modo del tutto imprevisto qualcuno che fino a pochi mesi prima era stato nel bene e nel male diciamo un imprenditore privato della comunicazione dell'edilizia della grande distribuzione e non so di che cos'altro dell'editoria Berlusconi scende in campo come disse lui all'epoca e quattro mesi dopo è il vincitore indiscutibile di quelle elezioni e da allora il centro-sinistra è sempre stato minoranza in questo paese dal punto di vista dei rapporti elettorali dei rapporti di forza anche quando due anni dopo quella vittoria di Berlusconi nel 96 il centro-sinistra vinse le elezioni politiche con il primo ulivo di Romano Prodi è bene ricordare poi la politica è fatta anche di numeri di cifre di percentuali è bene ricordare che quelle elezioni noi le vincemmo grazie soprattutto al fatto che i nostri avversari si presentarono divisi nel 1996 quando l'ulivo vince le elezioni con Prodi la Lega non si presentò alleata con Forza Italia e Alleanza Nazionale la Lega si presentò da sola e ottenne nel 96 quindi 12 anni fa il 13 anni fa anzi il più significativo risultato della sua intera storia rasentò il 10% dei voti con punte del 30% nelle valli bergamasche in alcune aree del Veneto quindi se però voi anche qui Google è fondamentale digitate elezioni politiche 96 se voi sommate i voti assoluti della Lega di Forza Italia e di Alleanza Nazionale nel 1996 noi avremmo perso se si fossero presentati uniti noi avremmo perso anche in quelle occasioni lì le elezioni le vincemmo perché si presentarono divisi separati nel 2006 cioè quando Prodi ritorna a Palazzo Chici per solo due anni poco meno di due anni è vero che noi vinciamo le elezioni tanto che governiamo per due anni con una maggioranza molto risicata di due soli senatori di vantaggio al Senato quindi ogni lunedì ci si interrogava se riuscivamo ad arrivare al weekend successivo ma è vero che vinciamo le elezioni e Prodi torna a Palazzo Chici dieci anni dopo però anche qui con sincerità diciamocelo come stanno le cose noi le pareggiamo quelle elezioni nel 2006 noi vinciamo formalmente le elezioni grazie alle regole della legge elettorale che assegnano un premio di maggioranza alla coalizione che piglia un voto più dell'altra coalizione alla Camera dei Deputati un premio di maggioranza nazionale al Senato c'era un premio di maggioranza regionale e noi come ricorderete otteniamo circa 25.000 voti in più del centro-destra alla Camera nel 2006 attenzione su numeri enormi nel 2006 il centro-sinistra prende moltissimi voti quasi il massimo dell'intera storia repubblicana se calcoliamo le diverse conformazioni delle alleanze cioè il centro-sinistra l'Unione la famigerata Unione prende oltre 19 milioni di voti alla Camera dei Deputati ma 19 milioni di voti prende anche il centro-destra e alla fine il premio di maggioranza che ci consente di governare per due anni scatta per 25.000 voti 25.000 voti su 38 milioni è come se io e te io non sono capace è come se io e te corressimo la maratona e dopo 42 chilometri e passa vinci tu per l'incollatura del naso questo è accaduto però è andata così e noi governiamo per un anno e mezzo ma vi ho fatto questo breve ricalcolo numerico per dire come è da 15 anni che noi siamo minoranza in questo paese si potrebbe poi discutere a lungo disquisire a lungo sul fatto tanti storici lo teorizzano che questo è un paese storicamente di impronta di orientamento moderato e quindi dove la posizione delle forze progressiste democratiche della sinistra è sempre stata storicamente minoritaria ma insomma lasciamo perdere adesso il passato storico che ci porterebbe lontano ma da 15 anni questa è la realtà delle cose e allora vedi per tentare di dare una risposta se questo è il rapporto di forza tra centro-sinistra e centro-destra delle due luna o noi immaginiamo noi il partito democratico noi l'Italia dei valori noi le forze della sinistra radicale noi l'Udc di Casini è un noi diciamo inteso come le forze dell'opposizione o noi pensiamo che tutto sommato sia possibile scommettere sul fallimento della loro azione di governo cioè lo dico in parole molto banali pensiamo che faranno talmente male che faranno arrabbiare talmente tanto gli italiani che per diciamo disperazione quelli che li hanno votati che sono tanti la maggioranza da 15 anni a questa parte in una parte almeno sceglierà di non votarli più e sceglierà di astenersi o addirittura una parte di votare l'opposizione attuale cioè scommettiamo diciamo sulla loro incapacità di affrontare i problemi del paese e di risolvere i problemi delle famiglie degli imprenditori dei cittadini dei lavoratori italiani e puntiamo su questo insieme poi con la saggezza tattica la sapienza politica del gioco delle alleanze delle regole elettorali per cui alla fine noi siamo bravi a fare questa cosa e quindi possiamo immaginare la prossima volta di vincere in questo modo attraverso un gioco delle alleanze e attraverso diciamo la scommessa sul fallimento della loro azione di governo ed è un'ipotesi è un'ipotesi io personalmente la considero poco convincente per le cose che provate a dirvi prima parlando di Obama ma è un'ipotesi oppure delle due luna dicevo l'alternativa è che tu che oggi sei all'opposizione tu centro-sinistra tu partito democratico ti poni la domanda della vita cioè ti chiedi ma come è possibile e che cosa dobbiamo fare noi per tentare invece di penetrare la scorza il muro del consenso che loro hanno aggregato nel corso di questi 15 anni in maniera molto molto consolidata quasi granitica cioè qual è l'offerta politica di contenuti di programmi di valori anche aggiungo questa parola che a volte è sempre impronunciabile ma non lo è secondo me essenziale anche nella riflessione che stiamo facendo qual è l'offerta di contenuti di programmi di valori che noi dobbiamo elaborare per tentare di scalfire quel consenso che da 15 anni si è consolidato intorno a loro e di portare una quota una parte di quei voti da questa parte a sostenere l'opposizione attuale e questa è la domanda e di questo che dobbiamo parlare cioè dobbiamo capire qual è in questo momento l'idea del paese del futuro del paese che noi possiamo cercare di mettere in campo e che abbia la forza la capacità attrattiva per tornare anzi non più che per tornare per essere finalmente maggioritaria nella scelta degli elettori di questo paese e qui veniamo al punto almeno per quanto riguarda il partito democratico degli altri non posso ovviamente parlare io credo che una delle ragioni se non la ragione fondamentale delle difficoltà che noi il mio partito ha incontrato nel corso di questi mesi e in particolare dopo la sconfitta elettorale di un anno fa è in qualche maniera riconducibile a questo discorso che io ho provato adesso ad impostare nel senso che il limite fondamentale che noi abbiamo avuto non è stato a mio modo di vedere un limite legato alla gestione della campagna elettorale che invece fu anzi fu una campagna elettorale nelle condizioni date è assolutamente brillante immagino che Veltroni nel suo lungo tour delle province sia passato anche da queste parti e forse qualcuno di voi avrà partecipato a quella manifestazione il tour elettorale di Veltroni ovunque è stato uno straordinario successo di partecipazione popolare di entusiasmo di spinta di speranza no non è stata la campagna elettorale il limite che noi abbiamo conosciuto e neppure secondo me noi possiamo giustificare le difficoltà che il partito democratico ha incontrato in questi mesi come il contraccolpo psicologico della sconfitta che naturalmente c'è stato perché quando perdi e quando perdi un'elezione importante come quella sei come il pugile che ha preso un colpo tremendo e va al tappeto si rialza magari però certo è un po' rintronato e neppure noi abbiamo pagato soltanto il prezzo di un deficit di comunicazione o di gestione dal punto di vista del rapporto no no io penso che magari tanti di questi aspetti ci siano stati ma al fondo io credo che noi abbiamo vissuto e conosciuto i problemi di questi mesi per il modo con il quale noi abbiamo costruito fondato pensato questo partito è lì che secondo me c'è stato un limite che io credo il prossimo congresso dovrà affrontare e cercare di superare e che cosa intendo dire intendo dire che noi abbiamo compiuto un errore tra i tanti probabilmente ma questo è quello che mi preme provare a dirvi questa sera nel rispondere alla tua domanda noi abbiamo pensato che dovessimo accelerare la costruzione del nuovo partito molti di noi ritenevano che fossimo persino in ritardo rispetto ai tempi ma abbiamo immaginato che per accelerare la costruzione del nuovo partito e per rendere più forte più efficace la offerta del nuovo simbolo della nuova sigla della nuova forza che nasceva fosse opportuno accantonare mettere un attimo di lato tutte quelle questioni che in qualche modo avrebbero potuto produrre delle turbolenze delle differenze delle discussioni all'interno e tra le forze che davano vita al partito democratico in relazione a quello che stavamo facendo e allora abbiamo preferito esaltare anche giustamente le tante cose che ci univano ed erano molte intendiamoci ma ritenendo che alcuni nodi vitali del futuro di questo partito della sua cultura politica potessero rimanere in qualche modo accantonati aggirando degli ostacoli quali sono stati questi ostacoli ma moltissimi la stessa concezione della persona del ruolo della persona della sua centralità della sua autonomia della sua libertà lo stesso modello di riforma dello stato sociale quindi la necessità di chiarire da questo punto di vista quali erano le discontinuità che dovevamo mettere in campo rispetto a un modello quello più tradizionale di impronta socialista socialdemocratica dalla quale proveniva almeno una parte importante del nuovo partito che erano gli DS ma aggiungo i temi dell'appartenenza ad una dimensione europea internazionale dalla quale non puoi prescindere se vuoi renderti chiaro farti capire nel senso di rendere chiaro chi sei con chi ti schieri con chi ti collochi nella dimensione della politica europea e internazionale il capitolo fondamentale di quelli che sono stati definiti in tempi più recenti i grandi temi interrogativi etici il tema della laicità dello Stato l'etica in rapporto alla politica dal momento che ci sono questioni insomma forse ne parleremo se la cosa vi interessa dal testamento biologico alla ricerca sulle cellule staminali che non sono soltanto materia degli specialismi o dei laboratori scientifici o dei tecnici ma diventano grandi temi del dibattito pubblico pensate soltanto all'impatto emotivo e culturale che una vicenda tragica come quella della povera Luana ha avuto sul paese ecco noi abbiamo pensato che temi complicati delicati sui quali c'erano anche delle differenze e ci sono delle differenze e che però erano parte costitutiva dell'idea del partito che stavamo elaborando dovessero essere messi un attimo in un angolo perché pensavamo e temevamo che se avessimo affrontato quelle questioni nel momento in cui davamo vita al nuovo partito le divisioni evidenti che ci sarebbero state le discussioni evidenti che ci sarebbero state avrebbero finito col mettere del piombo nelle ali del progetto con il rallentarne la sua come dire la sua capacità seduttiva la sua capacità di convincere gli altri e devo dire e aggiungo solo questo che c'è stata persino come dire la scelta di teorizzare questa necessità quando una parte anche importante della leadership del gruppo dirigente del PD ha cominciato a dire a teorizzare pubblicamente che la novità del PD era nel fatto non soltanto di dar vita ad un partito post ideologico e su questo credo tutti eravamo più o meno d'accordo perché la crisi delle vecchie ideologie delle vecchie appartenenze anche se sarebbe interessante discutere su cosa è oggi l'ideologia perché penso che chi governa oggi questo paese lo fa anche sulla base di una forte identità ideologica ma l'idea è stata che noi dovessimo dar vita non soltanto ad un partito post ideologico ma così è stato detto testualmente anche ad un partito post identitario e cioè che noi dovessimo superare le vecchie appartenenze quindi le vecchie identità che non erano più sufficienti ad affrontare i problemi della contemporaneità problemi economici culturali sociali quelli etici e cui ho fatto c'è non un attimo fa ma che invece che creare che cercare di dar vita ad una nuova identità che fosse sintesi di quelle vecchie culture ed esse delle risposte delle indicazioni anche nella soluzione di quei problemi che dicevo la scelta dovesse essere quella di dar vita a un grande partito appunto come si diceva a vocazione maggioritaria e che per essere a vocazione maggioritaria cioè per avere l'ambizione di rappresentare una maggioranza della società italiana non dovesse avere una sua identità forte solida riconoscibile ma non è così questo secondo me è stato l'errore ed è un errore dal quale sono derivate delle conseguenze e dei limiti che oggi noi vediamo e registriamo in tutta la loro evidenza e d'altra parte scusate se torno adesso riprendo io l'aereo e vado ancora un istante dall'altra parte dell'Atlantico quando parliamo di Obama parliamo esattamente di un'offerta politica che è altro che post-identitaria di un'offerta politica che fa dell'identità un punto di forza del consenso che si è aggregato intorno al giovane presidente degli Stati Uniti io mi è capitato di dirlo in questi termini sono rimasto oltre che per la campagna elettorale la sua brillantezza impressionato dalla prima settimana di Obama alla Casa Bianca lui fa il discorso lì al mall di Washington poi si insedia e naturalmente gli americani in questo sono bravissimi sono dei geni della comunicazione politica la prima settimana di solito si parla dei primi cento giorni per i governi la luna di miele lì la prima settimana di Obama da una settimana all'altra è stata una manifestazione fortissima anche dal punto di vista simbolico di quella che sarebbe stata la presidenza la nuova presidenza degli Stati Uniti in una settimana Obama fa le seguenti operazioni si accorda con il Pentagono con i suoi referenti e dà il via libera ad una operazione credo di ricordare i confini del Pakistan contro una cellula di Al-Qaeda per dare il senso il messaggio che contro il terrorismo si sarebbe applicata la mano di ferro il pugno duro come nella precedente amministrazione però contemporaneamente annuncia formalmente la chiusura di Guantanamo cioè riconduce la presidenza l'amministrazione americana dentro l'alvio del diritto internazionale del rispetto del diritto internazionale compie un gesto assolutamente di rottura nei confronti delle società islamiche dell'Islam con dei messaggi rivolti a quelle comunità e a quelle leadership dove dice l'America non è nemica dell'Islam noi vogliamo dialogare con voi e usa quella bellissima espressione che dice da parte nostra ci sarà una mano tesa se troveremo dall'altra parte un pugno aperto per dire costruiamo un'interlocuzione e con una battuta di questo genere sgombera il campo da otto anni di cultura politica neocon che si fondava sulla teorizzazione irresponsabile oltre che irrazionale dell'America come grande unica potenza che aveva la missione non si sa se divina o terrena di niente proprio di meno che occidentalizzare il Medio Oriente quindi una follia sotto il profilo geopolitico c'è quella battuta che non è mai stata smentita di un esponente dell'amministrazione Bush che avrebbe detto come i veri uomini non si fermano a Baghdad ma arrivano fino a Damasco e a Teheran per segnalare la follia della politica estera americana in quello scacchiere così drammatico e delicato e Obama con una battuta sgombera il campo da otto anni di politica neoconservatrice ma non si ferma qui va al congresso e conferma l'impegno dell'amministrazione appena eletta appena insediata per un piano straordinario di sostegno all'economia redditi medio-bassi rilancio dei consumi green economy economia ambientalista e verde sul piano energetico creazione di milioni di posti di lavoro per 870 miliardi di dollari un impegno assolutamente straordinario che restituisce diciamo credibilità a una politica di intervento pubblico in economia con ciò che ne consegue e poi e poi veniamo alla parte diciamo finale i fatti meno sempre il congresso il nuovo presidente tiene una conferenza stampa nella quale sostiene che quello è un momento importante un giorno importante per la civiltà americana perché finalmente il congresso ha approvato una legge attesa da molti anni che parifica il trattamento salariale tra uomini e donne c'era un'avvertenza giunta sino alla corte suprema per la parificazione degli stipendi a parità di mansioni e di titoli tra uomini e donne cosa che anche in Italia è un bel problema come forse sapete e la legge americana oggi stabilisce questo principio e Obama dice è un grande giorno per la civiltà degli Stati Uniti e infine chiude la settimana con due provvedimenti che sono la restituzione lo sblocco dei fondi federali alle ONG le organizzazioni non governative che utilizzano anche le tecniche abortive le pratiche abortive nei programmi di pianificazione delle nascite nei paesi in via di sviluppo programmi che erano stati bloccati finanziamenti che erano stati bloccati dell'amministrazione Bush e dall'altro lato sblocca oggi c'è un bellissimo servizio di Vittorio Zucconi sulla Repubblica sull'argomento sblocca i finanziamenti federali alla ricerca sulle cellule staminali e embrionali restituendo la prospettiva di un'America all'avanguardia anche in quell'ambito e in quella ricerca li ho citati in ordine non di importanza tutto questo in una settimana ora che cosa colpisce del racconto almeno cosa colpisce a me non è solo la rapidità perché poi uno dice la rapidità ho capito ma quello è pur il presidente degli Stati Uniti l'uomo politico più potente del mondo se non è rapido lui non si sa che dovrebbe essere ma è che nella rassegna di queste scelte c'è davvero il profilo l'idea la visione del futuro dell'America e in qualche modo anche del mondo che il presidente trasmette con le sue scelte di fondo con le sue scelte simboliche e che cos'è questo è un'identità è un'identità è l'idea che la politica è credibile nel momento in cui trasmette una concezione forte solida riconoscibile poi uno può essere d'accordo può non essere d'accordo il Vaticano ha protestato ovviamente per lo sblocco della ricerca sulle staminali e ci saranno altre opinioni differenti su singoli punti ma non c'è dubbio che a mettere in fila tutti i pezzettini del puzzle da Guantanamo ad Al-Qaeda dal rapporto con l'Islam alla ricerca scientifica dall'ONG al diritto delle lavoratrici americane di ricevere e di riscuotere lo stesso identico salario di un collega uomo a parità di mansioni e di titoli non c'è dubbio che il collegamento di queste diverse tessere del mosaico l'incastro di questi pezzi del mosaico appunto come in un puzzle come facevamo da bambini fornisce qualcosa di più che singole tessere affiancate l'una all'altra fornisce un'immagine fornisce una rappresentazione di quello che il paese vuole diventare almeno nella mente dell'amministrazione del presidente nell'idea che ha la leadership politica che guida il paese e invece queste tessere del mosaico se pensiamo venendo di nuovo con l'aeroplano da questa parte dell'oceano a noi sono molto più frammentate qualche mese fa Eugenio Scalfari ha scritto una domenica mattina uno di questi suoi belli articoli della domenica ha usato un'immagine che ha avuto una certa eco una certa fortuna ha detto l'Italia oramai mi appare in questo c'è anche il pessimismo probabilmente di un uomo non certo giovanissimo ma sempre lucido sempre stimolante nelle cose che scrive ma forse appunto è anche una vena di pessimismo ma insomma Scalfari scriveva qualche mese fa l'Italia mi appare oramai come uno specchio rotto avete presente lo specchio che cade in terra va in mille pezzi si frantuma e non è che poi puoi metterti a collegare i pezzettini ad incollarli devi comprarti uno specchio nuovo porta anche sfortuna ma diceva l'Italia come uno specchio rotto frantumata non riusciva più Scalfari diceva non riesco più a individuare i fili che legano le ragioni sociali le radici sociali le rappresentanze sociali e politiche di questo paese ma che cos'è questo se non la denuncia anche del fallimento di una politica di una politica in senso lato che smarrisce che perde la capacità di essere fino in fondo l'espressione di un'identità che dice che racconta il modello di paese che ha in mente e io penso che noi dobbiamo fare questo che il partito democratico con grande senso di responsabilità è anche umiltà culturale deve fare questo deve cercare di ripartire dalle ragioni che lo hanno fatto nascere ma andando oltre le formule un po' retoriche che abbiamo utilizzato sin qui abbiamo detto mille volte l'ho detto anch'io il partito democratico è una grande un traguardo ambizioso nella storia di questo paese perché finalmente per la prima volta noi stiamo unendo i diversi filoni le diverse tradizioni del riformismo italiano quella che è stata comunista socialista persino azionista poi naturalmente il cattolicesimo democratico e sociale poi una parte del pensiero ambientalista il pensiero delle donne i temi dei diritti civili finalmente questi diversi affluenti del riformismo italiano si sono unificati dentro un unico soggetto politico e allora però io mi rendo conto lo dico io a me stesso in modo polemico e uno dice tu dici questa cosa uno ti guarda e dice beh bravi caspita bravi avete unito i filoni del riformismo italiano complimenti ma adesso vi dispiace dirci li avete uniti per fare cosa? per andare dove? dove li volete portare questi filoni unificati del riformismo italiano? ecco e questa è la domanda semplice nella sua banalità ma strategica alla quale noi dobbiamo dare una risposta e la risposta non può essere soltanto io sono appassionato della politica e vivo l'appartenenza al mio partito a quello nel quale ho militato da ragazza a quelli nel quale ho militato successivamente e a questo partito con una assoluta intensità ma mi rendo conto che da questo punto di vista anche quando parliamo del radicamento territoriale di questo partito della costruzione di questo partito in ogni città in ogni comune in ogni quartiere noi non possiamo semplificare la questione ad un aspetto organizzativo o statutario il radicamento territoriale di un partito di una forza politica non viene non deriva soltanto dal fatto che c'è un ottimo statuto che ti spiega come fai a costituire il circolo non c'è dubbio che devi avere un ottimo statuto e devi garantire organizzativamente che il circolo esista ma quel circolo sarà vitale sarà vivo sarà attrattivo se restituisci a milioni di persone il senso di un'appartenenza la concezione che la convinzione che sono parte di una esperienza di un partito appunto che in sé esprime una cultura politica un'identità una funzione nella storia del paese e d'altra parte le grandi culture politiche anche nella vicenda storica italiana sono state questo hanno avuto questa forza questo impatto quando un piccolo sacerdote piccolo proprio nel senso di minuto siciliano che si chiamava sturzo decide di fondare un partito che sarebbe chiamato partito popolare lo fa sulla base di un'intuizione storicamente coraggiosa e dirompente che è la necessità di superare la storica questione romana e quindi di porre alla chiesa la questione di un'autonomia dei cattolici nella dimensione dello stato della democrazia italiana del ruolo dei cattolici nella politica italiana e da lì nasce un filone fecondo quello del popolarismo cattolico nella politica che non per caso è ancora come dire vitale nel senso che esprime ancora le sue eredità e quando nel 44 Togliatti torna in Italia dalla clandestinità e a Salerno propone la svolta di Salerno dei cattolici